Faccio finta di essere occupato. La verità è che è da tanto tempo che non faccio un vero lavoro. Io non faccio niente. Scusi, e tu chi sei? È il mio appartamento, ve l'assicuro. Accidenti! Ce ne andremo entro un paio di giorni, d'accordo? La cena era molto buona, grazie. È il minimo che possa fare. Siediti, andiamo. Coraggio, seguimi. È molto bravo. Sì. È davvero un ottimo gruppo. Sto cercando mio figlio. Volevo chiederti se giovedì sera sei impegnata. Polizia di New York, venga da questa parte. Che cosa volete? Perché? Ha pagato. Signore, la prego, sia lontani. Da dove viene? Dov'è Tarek? L'hanno arrestato. Io non me ne andrò, fino a quando mio figlio non sarà uscito da lì. Lo faremo uscire. Non potete portare via la gente così. Avete capito? Non potete trattarci in questo modo! Vieni. Vieni.